Buonasera, buonasera. Ma con le scantette, con i tacchi. Sì, con i tacchi. Mi hanno detto, vai dentro, scendi la scala e gioca. Ma qui non c'è il campo. Ma non è il campo. Ma se c'è un campo, ad esempio, se giochiamo sulle fasce bisogna togliere i fiori. Sì. Se giochiamo al centro bisogna togliere questo. Ma perché mi avete invitato? Cazzolino. No, Valdini. Valdini, qui, no, no, è scappato. Lo so. Allora, perché mi avete invitato? Per il piacere di averla qui tra noi, perché lei mi deve aiutare. Sì, io l'aiuto. Cosa devo fare? Se lei mi spiega? No, no, no. Dovrebbe avere un foglio che mi dovrebbe consigliare. Sì, un foglio. I fiori non si possono tagliare. Cioè, non è che... Cazzolino, il foglio. È qui, intanto. Eh, no, ma c'è... Ecco qua. Voglio... Sì. Buonasera. Ecco. Allora, grazie. E per me? Ma stretching? Un momento di stretching perché serve anche per la voce. Ma ancora che è la voce? Allora, saremo Pagniucca con la mano Bertini. No, 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 non è la forza. Faccio la legge, per favore, per vedere se ho ragione io. Di Francesco, di Matteo, di Biagio. Ma che vuole fare la formazione. Del Baggio, del Piero. Ma del Baggio. Cois. Ma... Questo è un nome strano. Questo è un nome strano, sì. Maldini, poi... Ollino. Sì. Vieni in giacchi, ma vai, vieni, vai, 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 vai. Vieni in giacchi, ma vai, 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 vai.